La festa del libro di Zafferana e Tenea giunge alla non-edizione e l'Istituto Giovanni Verga di Riposto vi partecipa come ogni anno. Perché noi crediamo fermamente nell'importanza della lettura. Leggere aiuta a pensare e aiuta i nostri allunni a crescere. Noi promuoviamo quindi tutte le iniziative che ruotano attorno alla lettura e alla scrittura aderendo alla festa del libro ma anche con iniziative nostre. Infatti devo dire che a breve avremo nella nostra scuola il direttore della BIMED perché proprio nell'ambito della lettura e della scrittura noi abbiamo aderito a un progetto di scrittura creativa per cui i nostri allunni divisi per fasce d'età scrivono dei libri. La lettura affascina i bambini di tutti i tempi e la lettura aiuta a sviluppare le idee e come dicevo prima a crescere. L'incontro di oggi rivolto ai bambini del plesso Marano di Riposto è tenuto dallo scrittore e giornalista Anselmo Roveda. Pedagogista e scrittore di racconti per l'infanzia, Roveda sa coniugare le tradizioni popolari, l'immaginario collettivo, ai racconti per i più piccoli. I popoli fin dall'antichità raccontavano le storie. Raccontare le storie è un modo di rappresentare il mondo, di rielaborare il mondo e anche raccontare ai ragazzi le storie, riuscire a condividere con loro un immaginario fatto appunto di narrazioni a voce, di illustrazioni. È proprio la capacità, la possibilità di ricomporre e rappresentare il mondo, dare a loro elementi per fare esperienza di cose delle quali magari a esperienza non hanno fatto ancora. Negli incontri si parla spesso di temi, di occasioni, di letture che hanno fatto, che fanno incontrare a loro delle cose come ad esempio, non so, l'innamoramento piuttosto che il lutto per parlare di due emozioni, piuttosto che di avventure lontane nel tempo e nello spazio che non hanno ancora fatto e forse non avranno neanche occasione di fare se parliamo di lottare con le tigri o di viaggiare fino alla luna. Eppure tutte quelle esperienze che loro incontrano e leggono nei libri diventano un patrimonio per sé, diventano allora sì occasione evolutiva ed educativa.